Presentato il nuovo sito internet della conferenza dei sindaci del Valdarno. Gli otto comuni della vallata retina dunque si uniscono virtualmente in un portale web che darà la possibilità ai cittadini di accedere a vari servizi fra cui le news e gli eventi del territorio, la consultazione delle delibere della conferenza e molto altro, fra cui anche un collegamento diretto al portale della conferenza zonale educazione e istruzione che fornisce i contatti della segreteria rendendo la piattaforma un punto di riferimento completo per chi cerca informazioni istituzionali e operative. La conferenza dei sindaci è stata costituita nel 2005 a seguito della delibera del consiglio regionale che istituiva la conferenza zonale in ciascuna delle zone distretto. Finalmente dichiara Valentina Vadi, presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno, anche la conferenza stessa ha un proprio sito web, uno strumento molto utile sia per gli amministratori, le amministrazioni pubbliche e soprattutto per i cittadini, per conoscere e approfondire il lavoro portato avanti dalla conferenza dei sindaci che, conclude Vadi, si occupa di tematiche di natura sociale e sanitaria ma anche di tante altre questioni importanti relative al nostro territorio.